No, l'appello no, l'appello no. Drogati, se vi azzardate a usare i miei pedalini stesi per farvi il laccio al braccio, oppure ad attaccare il virus dell'AIDS alla mia canottiera di felpa, a proposito, scusi, condomini feticisti. Chi si è messo in testa di attaccare le calze continue color carne alla mia antenna 5 bande? Lo dico, perché so che può indurre in tentazione, perché la mia antenna con i suoi braccini stesi. A proposito, scusi, signora Giuliani del Terzo Viano, vuole togliere la sottoveste di raso rosa di pizzo che non riesco più a vedere i canali pornografici? Che oramai non ne è luta, vanno tutte in giro con la sua sottoveste e il suo baby doll. Ma stiamo scherzando? Signor Ricci, calma. Chi sono quelli? Che cos'è? Oddio, che sono adesso? Chi è arrivato? Sono una sorpresa, sono dei musicisti. Ma quali musicisti? Quelli stanno sotto al bar a casa mia, si mettono lì a spacciare la roba. Ma no, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma quelli sono miliardari, vengono sul bar sotto casa. E come hanno fatto i miliardi? Hanno fatto 8 milioni di tizi. Sì, dopo domani. Ma tranquillo, in irvana! Drogate! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti